Cari amiche e cari amici, fratelli e sorelle, buongiorno, un rinnovato saluto affettuoso a tutti voi. Come certamente saprete in questo 5 marzo la nuova notizia è il decreto emanato ieri sera dal governo che stabilisce tra le altre cose la chiusura delle scuole in tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo. Ciò significa che qui da noi in Lombardia diventeranno tre, speriamo non di più, le settimane di chiusura delle scuole. Molti di voi sanno molto meglio di me, immagino quante e quali complicazioni ne derivano. Vorrei esprimere un pensiero di particolare vicinanza a tutte le famiglie perché si fa presto a dire che è importante riscoprire la vita della famiglia, ritrovare il tempo di stare insieme tra genitori dei figli, magari anche pregare in famiglia. Si fa presto a dirlo e qualche volta anche noi vescovi rischiamo di essere un po' troppo frettolosi a questo riguardo. Ma le difficoltà ci sono e come? Perché poi il lavoro continua e se non continua vuol dire che ci sono altre complicazioni, perché non sempre ci sono i nonni che riescono a dare una mano, perché non sono sospese soltanto le scuole ma anche altre attività. Penso in particolare alle difficoltà delle famiglie dove ci sono persone con disabilità, con i servizi assistenziali in qualche caso ridotti o addirittura diminuiti, con il ridimensionamento dell'aiuto che viene anche dalle tante e benemerite associazioni. Insomma la situazione è tutt'altro che facile e le misure prese ieri dal governo ci dicono che la crisi non si risolverà in un paio di giorni. È una ragione di più per i credenti per perseverare anzitutto nella preghiera insistente e fiduciosa raccomandata anche nel Vangelo della Messa di oggi. Gesù invita a chiedere, a cercare, a bussare alla porta di Dio sapendo che egli come padre darà ascolto alla voce dei suoi figli. E la prima lettura ci dà l'esempio della preghiera della regina Esther che si chiude con l'invocazione, volgi il nostro lutto in gioia e le nostre sofferenze in salvezza. È una supplica particolarmente adatta ai nostri giorni. Ma Gesù, sempre nel Vangelo di oggi, ci offre un'altra indicazione preziosa ricordandoci la cosiddetta regola d'oro. Tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. È noto che Gesù enuncia in positivo questa regola, cioè non dice ciò che non volete sia fatto a voi neppure voi fatelo ad altri, ma appunto tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, eccetera. Tutti noi, specialmente in momenti di crisi come questo, ci aspettiamo dagli altri comportamenti corretti, premurosi, attenti, caritatevoli. L'indicazione del Signore è chiara. Incominciamo a farli noi nei confronti degli altri e sono convinto che molti già lo stanno facendo, dando così un aiuto importante per superare questo momento. È mia intenzione proporre alla Diocesi, a partire da domani, venerdì 6 marzo, una novena di preghiera a San Pantaleone, il nostro patrono, medico e martire, di cui vedete anche qui un'immagine, che in passato ha protetto dalla peste la nostra città e il nostro territorio. Già da adesso invochiamo la sua intercessione con la preghiera. O Signore, per il tuo martire San Pantaleone, che durante la vita esercitò con amore la professione di medico, che confessò la fede fino all'effusione del sangue, dona a noi la salute dell'anima e del corpo, dà a noi una fede pura e coerente, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita e specialmente quelle di questi giorni. Amen. Grazie e a domani.